se c'è qualcosa che ti dici di fare da troppo tempo falla o decidi di non farla più procrastinare ci toglie troppa energia la procrastinazione ci consuma ci appesantisce perché giorno per giorno accumuliamo dentro di noi le cose che dobbiamo fare noi abbiamo un sistema programmato per riuscire a realizzare quelli che sono gli intenti che decidiamo di realizzare una volta che esprimiamo un desiderio che formuliamo un'intenzione tutto il nostro sistema collabora per cercare di farci realizzare ciò che abbiamo scelto se remiamo contro se permettiamo delle forze avverse di cui non siamo consapevoli di bloccarci nel cammino che abbiamo scelto di seguire questo genere noi una grande frustrazione questo genere noi come un blocco di energia di pensiero di forza che va ad appesantirci allora ecco la procrastinazione diventa così qualcosa che davvero ci toglie energia che davvero va a deprivarci che davvero va a rovinare la nostra vita alle volte molto di più molto di più di quanto non lo sarebbe se semplicemente non facessimo quelle cose e allora ecco la questione questa se c'è da troppo tempo qualcosa che ti dici di dover fare prenditi il tempo di concentrarti su di essa e di decidere se la vuoi fare oppure no piuttosto rinuncia piuttosto di basta non la faccio più oppure proietta nel futuro un tempo in cui ti concederai di farlo ma non ci pensare più finché non arriva quel momento perché vedi se no continuare a a ripensare a quella cosa sapere che la dovrei fare a tenerla li alimenta e noi un senso di inadeguatezza un senso di non essere in grado un'insicurezza che va a strutturarsi sempre di più che va corroderci sempre di più ciò che rischiamo di fare e di iniziare a mettere in atto delle vere e proprie condotte di evitamento c'è una cosa che so che dovrei fare ma non la faccio anzi inizio ad evitare di farla inizio sistematicamente ad evitare situazioni che mi possono indurre a farla se questa condotta di evitamento diventa alla routine diventa sostanziale nella mia quotidianità allora ecco che implicitamente costantemente mi dico che non sarò in grado che non posso farcela che non avrò sufficienti energie che non avrò sufficienti risorse che non riuscirò in fin dei conti a fare ciò che vorrei fare e vedi questo mi deprimi mi mi depriva profondamente di quelle che sono in realtà le mie energie di quello che in realtà è il mio potenziale di ciò che effettivamente io posso fare nella vita con il risultato di chiudermi di isolarmi e allora ecco che la procrastinazione l'evitamento di ciò che dovrei fare diventa molto più dannoso del non raggiungimento degli obiettivi che mi ero prefisso di raggiungere per cui ecco tornando a monte il suggerimento che vorrei darti oggi è questo piuttosto lascia perdere se tendi a essere un procrastinatore seriale e ad avere tante cose in ballo fai un elenco scrivitelo e poi pulisci da tutte quelle cose che non sono così necessarie ne rimangono due ne rimangono tre su di esse focalizzati parti fallo dove se ahimè hai attivato quei percorsi della mente che ti dicevo prima la paura l'evitamento l'insicurezza il fare quelle cose che sai di dover fare che scegli consapevolmente nero su bianco di fare il farlo ti aiuterà a a superare proprio quelle stesse paure proprio quelle stesse strutture che hai costruito dentro di te e che ti portano a ritenere di non essere in grado di non potercela fare di non essere abbastanza allora ecco focalizzati scegli una una cosa va benissimo una sola cosa un buon suggerimento su questo realizzato diverso materiale ecco anche un video della serie pratica la mente dove spiego esercizi pratiche attività per andare a lavorare su diversi aspetti come la procrastinazione ti suggerisco di guardare lì ecco un suggerimento è quello di iniziare da una cosa magari una cosa che per te è importante fare magari non la più difficile ma una cosa che per te è accettabile inizia da quella parti e vai avanti e non ti fermare perché vedi capita nella vita a volte di essere schiacciati dall'insicurezza di essere schiacciati dalla paura di non riuscire da essere schiacciati da un'immagine di se stessi che non ci rende onore ma è proprio partendo e proprio non credendo a quell'idea insinuata si così profondamente nella mente che riusciamo a fare la differenza è proprio lì che possiamo iniziare cambiare partire e andare a trasformare la nostra vita grazie a tutti